Cultura e bellezza del nostro territorio al centro del dibattito che negli ultimi due anni ha dato vita al processo partecipativo degli Stati Generali della Cultura, promosso dal Parco Adda Nord. Incontri e iniziative organizzati per costruire relazioni, per far conoscere il parco e per dare valore ai 35 comuni che compongono l'ente. L'ultimo atto degli Stati Generali, seppure l'impegno per la valorizzazione del territorio non termina qui, sarà l'evento aperto al pubblico previsto per sabato 27 maggio al Politecnico a partire dalle 9 e un quarto. A conclusione di questo nostro percorso partecipativo avremo la presenza del filosofo Carlo Sini, uno dei maggiori filosofi contemporanei italiani, e del biologo Carlo Alberto Redi, che apriranno un dibattito attorno al fatto che non siamo stati gli uomini migliori e rifletteranno sul futuro per il nostro paese. Quindi, a conclusione di questi Stati Generali, a differenza del passato, dove noi abbiamo fatto parlare il territorio, adesso mettiamo il territorio all'ascolto della filosofia e della scienza per tentare di avere delle sollecitazioni. Cosa è emerso in questo percorso? Beh, intanto abbiamo capito meglio che la cultura è natura che parla, cioè l'uomo non è un alieno, l'uomo è un essere biologico che vive all'interno della natura e quindi questa cosa pone la necessità di fare degli sforzi per superare ciò che è stato diviso come se natura e uomo fossero due cose separate. L'altra cosa che emerge è quella del ruolo del parco, cioè abbiamo capito meglio che il ruolo del parco è quello di prenderci cura, del nostro territorio e ovviamente qui emerge l'esigenza di capire che la natura ha dei diritti che devono essere tutelati. Diversamente ci troveremo sempre in presenza di situazioni di emergenza che non si potranno mai governare in anticipo. Grazie.